Oggi guardando questo video avrai a tua disposizione un potente strumento per risparmiare sulla tua spesa senza dover rinunciare alla qualità. Questo è il secondo video di una serie dove in ognuno ti svelerò alcuni prodotti venduti nei discount, quindi a prezzi bassi, ma che in realtà sono realizzati da aziende che producono anche le grandi marche. In sostanza, prodotti che utilizziamo tutti i giorni e che acquistandoli in un supermercato cosiddetto low cost, con una confezione diversa, costano decisamente meno. Sappiamo tutti che i grandi produttori mettono nel mercato prodotti con le stesse caratteristiche e cambiando solo la confezione del prodotto variano anche il prezzo. In questo video ti mostrerò 12 prodotti venduti da Lidl al prezzo da discount, ma che in realtà sono prodotti dalla stessa azienda che produce per la grande distribuzione. Se ti interessano i miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti preziose informazioni. Se hai già visto qualche mio video, saprai che la mia opinione non è legata a nessuno sponsor e che ti riporto solo informazioni neutrali che derivano da studi fatti e dalla mia personale esperienza. Prometto col dire che non sempre il fatto che un prodotto venga fatto nello stesso stabilimento con un nome e una confezione diversi dall'originale sia uguale appunto all'originale. Questo perché, anche se il produttore è lo stesso, le indicazioni che gli vengono date dalle aziende per le quali deve produrre sono diverse. Questo metodo di produzione si chiama private label e significa che le aziende fanno produrre alcuni prodotti a dei produttori vendendo poi il prodotto con il proprio marchio. Partiamo quindi con i 12 prodotti venduti da Lidl. Come al solito partiamo con i detersivi. Qui faccio una parentesi dicendo che i detersivi V5 e Formil sono prodotti dalla stessa Lidl nel suo stabilimento Lidl Italia che si trova ad Arcole, Verona. Quindi primo prodotto. L'amorbidante Dossi è prodotto dalla Procter & Gamble, lo stesso stabilimento che produce anche il Mastrolindo, il Viacal, il Dash e il Lenore. 2. Il detergente e la candeggina d'uso sono prodotti da Italchimica, azienda che produce anche i marchi Dual Power e Dermomed. 3. Il caffè Bellarome Crema è prodotto da Jacobs Caffè che è del gruppo Kraft. 4. I biscotti Real Forno sono prodotti da Balocco. 5. I Savoliardi e gli amaretti Real Forno Lidl sono prodotti da Vicenzi. 6. I croissant alla crema e quelli vuoti con lo zucchero Nastrecce sono prodotti da FBF che fa parte del gruppo Bauli. 7. I plum cake allo yogurt e le ciambelle di pasta Margherita sempre della Nastrecce sono prodotti dalla Mister Day che fa parte del gruppo Vicenzi. 8. Il riso Robigna nel pacchetto da 2 kg è prodotto dalla Scotti. 9. Le cipolle borettane e il pesto alla Genovese a marca Baresa sono prodotti nell'astabilimento dei fratelli Polly. 10. La passata di pomodoro Campolargo in Brick da 1000 grammi è prodotta nello stabilimento della Petti. 11. La mozzarella Merivio è prodotta da Granarolo. 12. I Wurstel Salumeo sono prodotti da Beretta che produce i famosi Vuber. 12. Spero di esserti stata utile. 13. Nei prossimi video esploreremo dove sono realizzati alcuni articoli dell'Aldi ma anche di alcuni supermercati che non fanno parte della catena dei discount come la Coop o l'Esselunga. 14. Se hai bisogno di qualsiasi informazione su ciò che riguarda l'universo casa lasciami un commento e sarò felice di risponderti. 15. A presto. Bye bye.